Un'industria di antica tradizione Questa fabbrica è presente in paese dal 1917 ed era nata per la lavorazione della seta. Nel 1953 i proprietari le diedero il nome Lei Zhu che era il nome della moglie dell'imperatore cinese che nel III millennio a.C. scoprì e diede inizio alla produzione della seta. L'azienda appartiene alla famiglia Terragni e ora, nello stabilimento di Bellusco, si lavora il poliestere. Il palazzo è antico, custodisce un piccolo museo privato dedicato all'attività con diversi telai storici che raccontano la storia dell'azienda e più in generale l'evoluzione della lavorazione dei filati.